Difendere il multilateralismo, aumentare la fiducia nell'economia mondiale, ma anche prevenire i cambiamenti climatici, affrontare il nodo delle migrazioni, sono alcuni dei temi sul tavolo del G20 di Osaka in Giappone. Un summit dove la priorità sarà comunque la guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina, questione che preoccupa Washington, ma anche Unione Europea e il paese del sollevante per l'impatto negativo che potrebbe avere sulla crescita globale. Il presidente americano Donald Trump, dalla riunione con il presidente Xi Jinping, spera di negoziare, di fare passi in avanti. Ci sono negoziati in corso, ha detto il leader della Casa Bianca, vedremo cosa ne uscirà. Tuttavia esperti come David Henning, ex rappresentante commerciale del Regno Unito, sono dubbiosi sul fatto che potrebbe esserci una vera svolta. Al presidente Trump piace molto fare affari e accordi, ma finora non ha fatto abbastanza per trarre vantaggio per una sua rielezione. Ecco perché vorrebbe trovare un accordo con Pechino, ma allo stesso tempo si è messo in una posizione un po' complicata. Entrambe le parti stanno portando avanti le loro posizioni, gli altri paesi sono un po' preoccupati. Gli Stati Uniti stanno minacciando dazzi per il settore per le manifatture automobilistiche, forse tra qualche mese. Questo è un altro punto che preoccupa non solo la Cina. Le paure infatti sono diffuse un po' ovunque. La scorsa settimana centinaia di aziende sono arrivate a Washington per dire no ai dazzi del 25% ventilati da Trump su 300 miliardi di dollari di importazioni cinesi. I settori maggiormente coinvolti, quelli dei beni di consumo e quelli dell'hightech. Se questi dazzi fossero imposti colpirebbero soprattutto però le famiglie americane a basso reddito.